Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per fare un nuovo video E per essere precisi oggi andremo a PlanetTune Faremo l'evento e vedremo un pochettino meglio la roba di stella Vediamo se c'è chiaramente l'evento, si c'è Sembra che voi avete veramente messo a sicuro il potere della mascot di PlanetTune Comunque Noi ora conosciamo che Lasik e i suoi sgherri sono consapevoli dell'esistenza delle mascot Anche La signora Underling ha detto che lei voleva andare a fare un viaggio alla station come prossima tappa Noi dovremmo seguirla velocemente o la ritroveremo davanti a noi di nuovo Vedo che la passione di Nap Gear è ritornata Oh sì, io sto ancora combattendo con qualcuno della mia paura Però dovrei essere a posto adesso Ah, questo, cioè, solo il primo capitolo mi ha fatto mollare in parte del gioco Lo dico proprio tranquillamente Più che altro per Nap Gear Poi appena passa questa parte dovrebbe essere tutto a posto se non erro Il Count Schiaffi dovrebbe finire Eccellente, io vi suggerisco di fare come è stato detto, come ho detto E andare velocemente alla station Riguadagnare shares e cercare le mascot Ah, e dimenticavo di darvi un importante consiglio Che cos'è? Cpu candidate come Nap Gear risiedono sia alla station che a lui Non esisterci più candidate di... di... come si chiama... oddio... ho un vuoto Io raccomando di cercarle nel vostro viaggio Questo farebbe di loro le sorelline più giovani di Noir e Blank Sì, infatti non esiste la sorella giovane di Bert, purtroppo Le CPU candidate, altre ragazze come me Oddio, il mondo non è pieno Soltanto di personaggi femminili in questa Hyperdivision Neptunia, no Ogni nazione ha la loro situazione con cui preoccuparsi Quindi potrebbero rifiutare all'inizio, ma è importante fare un contatto Dopotutto io sono certa che loro condividono il tuo desiderio di salvare le loro sorelle Anche io Sembra che abbiamo un piano Andiamo alla station Ok Mi mandi... ah no, mi mandi proprio... mi spedisci direttamente alla station senza fare nulla? Salviamo allora Capitolo 2 Crossroads of defeat L'incrocio della sconfitta? Tipo? L'incrocio della sconfitta? Wow, la station è completamente piena di gadget e macchine È la tua prima volta che vieni qua, Gigi? Sì, ma ho sentito storie da Neptune Sacchi di... oggetti elettronici Oggetti elettronici Questo posto sarebbe fantastico per Mi viene a craftare, cioè creare, comunque Creare oggetti, dai Creare oggetti elettronici Sarebbe fantastico se io potessi dare uno sguardo attorno Ehm... calmati Noi abbiamo cose più importanti da fare ora Sì, hai ragione Noi dobbiamo fare il nostro meglio O la station sarà in pericolo Non dobbiamo andare a fare shopping Lo dico tranquillamente Così, Windows Shop Mi ricorda tipo Windows Però non credo che sia quella la citazione Ify, hai qualche contatto? Beh, noi potremmo andare alla gilda Prima di tutto Potremmo ottenere delle informazioni E prendere delle missioni Per recuperare degli shares qui Ok Perfetto Ora, ora, ora Prima di andare alla gilda Guardi... Facciamo passare dolcemente questi dialoghi E andiamo a vedere il stella dungeon... Il stella coso... Il stella dungeon Cos'è esattamente? Ah, chi mi becca la citazione? Scambio equivalente Ti darò... Oddio Tipo, ti darò la mia vita Così tu mi darai tutto di te Io voglio scambiare la mia vita Ah, questa è citazione Quella è una grandissima citazione Già Ritorniamo qua indietro Stella dungeon prima di tutto Cos'è il stella dungeon? Stella è tornata Allora, ve l'ho fatto vedere Tipo qualche episodio fa Stella, quando ritorna dai dungeon Utterrà degli oggetti In questo caso non mi hanno ottenuto nulla Per quanto riguarda noi Però Degli equip per se stessa Come vedete Io non ho Non ho trovato ancora dei arbi Però va bene Equipaggiando la roba stella dungeon Lei Andrà meglio nei dungeon Come vedete Lei ha cominciato a cercare Ha affrontato dei tulip Ha ottenuto un oggetto Ha cercato in altre aree Ha trovato un tesoro Ha cercato in altre aree Ecco È una cosa automatico Un minuto gioco automatico Molto carino Che io ho intenzione Di far fare così A caso Più che altro Cioè Di farglielo fare Quando ho tempo Che abilità Ha questa cosa A evitare trappole Perfetto Andiamo Vai fino a piano 5 Secondo me ce la puoi fare Stella Non ne sono troppo sicuro Quindi mentre registriamo Pian piano Andremo avanti così IF compano Due nuovi eventi Poi ci sono una marea Di roba qui Va bene Andiamo a comparare con IF Ehm Non ho letto Come Ah credo che abbia detto Ah ok Questa è una battuta Prenderà tre giorni Per Istuar Roba del genere Ehm Istuar è È il tuo capo Alla Gilda Giusto? Sì Lei è l'oracolo È La manager Della Gilda È ammirabile Che lei Come lei possa Avere Entrambi i luoghi Come lei possa fare Entrambi i luoghi Come agisce Istuar Alla Gilda Io lo so Solo che Io la conosco Soltanto come un oracolo Quindi Beh lei sembra Conoscere ogni cosa E può fare Solo E può fare Qualsiasi cosa Ma Signora Istuar Ehm Questo Quali sono le coordinate Stimate Della Della base Dell'ASIC Dell'operazione Di questa volta Sto calcolando Sto calcolando Adesso I risultati Saranno pronti Fra tre giorni Questo è troppo lento Ci vuole troppo tempo Signora Istuar Hai Qualche informazioni Su questo Sospetto Questa è una faccia Familiare Ma ci metterò Tre ore A ricordarla Non puoi farcela In tre minuti Scusami Signora Istuar Vi chiedo Io gli chiedo Una mappa Per conoscere Tutti i punti Di distribuzione Di Arfwar Arfwar Sì Ho detto giusto Io posso prepararla Per te Comunque Compilare I dati E mappare Tutto Prenderà Tre mesi In tre mesi L'intera mappa Sarà vecchia Lei ci mette troppo A fare qualsiasi cosa Ah ah Questa è la nostra Istuar Compa Tempo di Fare rapporto a GG Con GG Fare rapporto a GG Con GG Cosa sto facendo rapporto Chiedi Questo è segreto Ognuno Ascolti Io sono adesso Una Un'infermiera Con licenza Praticamente Wow Davvero Congratulazioni Tu eri Soltanto Una Tipo Assistente O comunque No Non mi viene Una Tirocinante Quando noi ci siamo Incontrati Per la prima volta Giusto Eeeh Ti Non Ti Oh che cavolo Devo dire Mette tu eri via Io stavo Io ho studiato Un sacco Capisco Tre anni Sono un lungo tempo Oh ma Se tu sei diventato Un'infermiera Devi andare a lavorare In un ospedale Giusto Oh non ti preoccupare Con le cose piccole Con le piccole roba Diciamo che Mi hanno messo Diciamo che Hanno Mi hanno permesso Di mettere insieme Tutte le mie Ore di vacanza Ok Ore di Sì ore di vacanza Più o meno Dai Le mie ferie Ok Se tu Prenderai Troppe Vacanze Troppe ferie Non ti licenzieranno Se lo faranno O lavorerò Una clinica Gratuita O qualcosa del genere Pi' importante Se io non ci sono Chi si prende la cura Di te E ifi Quando Avrete coperte Di ferite Compa Tu sei così gentile Con noi Grazie per tutto Nessun problema Tu puoi venire Schiaffeggiata Male E spesso Quanto vuoi Perché io sono qui Per curarti Ora sembra Che ti piaccia Sembra quasi Che ti piaccia Quando noi Siamo ferite Ok Lili rank Ha aumentato Lili rank Non l'ha ancora Introdotto Facciamoci Questi Vediamo questa Roba qui Il mio team Di ricognizione Ha altri nove Membri Otomechan Neverlandchan E Gli altri Sono segreti Ok Compa Sono stata con ifi Per la mente La vita Sai Noi siamo diventate amiche Da quando eravamo Solo piccole bambine Questo E' uno degli indizi Ci fa capire Che Oltre alla mappa Ovviamente diversa La trama non citata Dello scorso Gioco Che secondo me Mi fa capire Che i due giochi Sono separati Ma Lasciamo stare Poi Poi magari Più avanti Mi sbaglio Però io Secondo me Questo non è un sequel Di trama Mentre invece Il 3 Da quello che so È un sequel Di trama Di bag Vediamo Sono di bag Questi sono abbastanza inutili Che li leggo Perché non è niente di importante È stato un shiro 2 di dude Va bene Vorrei soltanto levarmi In mezzo Dalle scatole E quindi Magari Vediamo un pochettino Quanto dura il video Perché Potrebbero darmi qualcosa di interessante Che posso prendere soltanto adesso Motivo Per cui mi conviene Farlo Ora Perché se mi danno qualcosa di interessante Che posso prendere soltanto adesso Lo devo per forza fare Non in caso Mi hanno dato nulla Riportiamo le quest Agile Ok Invece questi due Ancora no Perché Vabbè Gli sistemeremo Gli sistemeremo di sicuro Lo shop Compriamo Compriamo C'è ancora soltanto una cloak Quindi ne prendiamo una Che potrebbe esserci utile Braccialetti E potrei prenderli Later Cosa voglio Più difesa No Allora mi serve Una difesa fisica Due No Una difesa magica E un'altra fisica Ok Magari forse Avrei dovuto fare Prima di questo capitolo Però Lasciamo stare così Rubber band È abbastanza inutile Ah abbiamo ottenuti altri Sono un pirla Allora Vabbè Let her arm Let her arm L'avevo ottenuto Importante questo Ah devo cambiarli anche Dai catarro Mettergli le claw Perfetto Possiamo fare Vediamo un attimino Se possiamo fare un piano O qualcosa del genere Stella dungeon L'ho fatta Dunkel 60 Cosa mi manca Horse blind wing Che palle Virtua forest Posso fare Le item change Gli oggetti Il netball Ok lo facciamo Life fragment Invece lo teniamo lì Andiamo Non molto traffico oggi Questo posto Sembra essere Abbastanza fermamente Sotto il controllo Dell'ASIC Spero che noi Potremo ottenere Delle informazioni Legittime Informazioni vere Mentre voi Raccogliete informazioni Permettetevi di andare E accettare Un po' di Missioni Sotto un personaggio nuovo Che assolutamente Non sarà importante Per la trama Ma quanto ci scommettiamo Che non lo è E' una comparsa Casuale Che vedremo Soltanto una volta Mi scusi Mi scusi Mi piacerebbe Vedere quali missioni Sono disponibili Mi scusi Vorrei vedere Quali missioni Sono disponibili Lei sembra Intorno alla metà Può una ragazza umana Prendere davvero Una ragazza umana Così giovane Prendere davvero Dei lavori pericolosi Così pericolosi Anche tu Sei qui Per fare Missioni Ah io Sì sì Giusto Giusto Sei sicura a proposito Di questo Io intendo Tu sei solo una bambina Ma anche tu Sei una bambina Una ragazzina Io no Io sono un'eccezione All'eccezione Un'eccezionale All'eccezione Anzi Tu non hai idea Di quanto sono forte Ma necessito Diventare più forte Così io posso Così tu puoi Nulla Perché se tu Stai Cercando Delle missioni Qui In ogni caso Io voglio Aiutare le persone Di questa nazione Provare a riguadagnare Shares Per le cpu Wow Non siamo Non siamo seri Quel modo di parlare Ti fa sembrare Come un Uno studente Uno studente D'onore Tipo Qualcuno Che Uno bravo Di quelli Non so Come spiegarla La traduzione In italiano Che problema C'è di essere Serio A proposito Un problema Serio Mi dispiace Mi dispiace Stella è torrata Mi ha fatto Cagare in mano Io non ho parlato A una ragazza Della mia età Da un sacco di tempo Io non parlo A una ragazza Della mia età Da un sacco di tempo A pensarci bene È passato un sacco di tempo No Io non ho mai incontrato Una ragazza Della mia età Prima Ognuno è più grande Di me Beh Il mio nome È Uni Qual è il tuo Io sono Nepgear Io spero Che noi Potremo diventare amiche Uni Nepgear Beh Visto che Ci siamo Presentate Ora Vuoi che ci uniamo E facciamo una quest Insieme Una missione Tu intendi Tu e me Sì Io faccio sempre Questa roba da sola Ma Potrebbe essere Una buona idea Cambiare Cambiare modo E provare a lavorare Con qualcun altro Ok sì Questo sembra divertente Andiamo insieme Uni è stata aggiunta Ora Mi dai la scelta Mi dai la scelta di poter vedere i personaggi Grazie Ti ringrazio Perché Così almeno No anzi Faccio lo strozzo Sì Faccio lo strozzo Per chi non conosce il gioco 18 minuti 18 minuti Che aiuta Informazioni Guardiamo un po' Guardiamo un po' Così è tutto Potrei andare sul nepedia E farvi vedere Uni Ma non lo farò Qua da Leone è tutto Ciao a tutti ragazzi Al prossimo episodio Anche se in realtà Si capisce tanto Già che è uni Ma lasciamo stare Ciao ragazzi Al prossimo episodio Ciao 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 Grazie a tutti.